Il nome della mia opinione è relativo alla modifica di proposta di direttiva europea sui rifiuti. In effetti sono quattro le direttive, fra l'altro quella sulle discariche, e riguardano l'Europa e l'Unione Europea nel 2030. In tutta Europa il problema di organizzare la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti è un problema dei sindaci e ovviamente delle regioni e quindi è giusto che in modo particolare su questa materia molto delicata e molto importante siano i sindaci, le province, le regioni e quindi il comitato delle regioni ad occuparsi di questa materia. Per me personalmente, perché io sono sindaco di un comune che comunque sta facendo la raccolta differenziata ad una percentuale superiore al 50%, ma io sono stato in passato assessore all'ambiente in provincia e le province in Italia e in alcune regioni sono protagoniste della raccolta del problema dei rifiuti, per cui sono diventato abbastanza esperto in questo settore.